Influencer e già concorrente dei, l'isola dei famosi 2019, Sara Altobello è entrata il 3 novembre 2022 nella casa del grande fratello Bip. Scopriamo le cose da sapere sulla sosia di Melania Trump, le origini e la famiglia, Lori del Santo e Barbara D'Urso, il compagno e l'attività da influencer. Età, origini, famiglia, primi lavori da Lori del Santo a Barbara D'Urso Sara Altobello, l'isola dei famosi e il GFB, 7 vita privata, compagno, Instagram età, origini, famiglia, primi lavori Sara Altobello nasce a Modugno, provincia di Bari, nell'aprile del 1998. Quella di entrare nel mondo dello spettacolo è per lei una prerogativa presente fin dalla giovane età. Questa volontà è nel corso del tempo motivo di scontro con i suoi genitori, intransigenti nel voler vedere la propria figlia studiare e intraprendere un solido futuro professionale. Pur non appoggiata dalla sua famiglia, Sara continua imperterrita a coltivare il suo sogno. Ancora molto giovane, fa la modella in alcuni showroom e si mantiene anche come cubista in discoteca. Pur non abbandonando mai la volontà di entrare nel mondo dello spettacolo, la ragazza inizia a lavorare in un centro estetico, dove diventa anche responsabile per le lampade abbronzanti. Da Lori del Santo a Barbara D'Urso la svolta professionale di Sara Altobello avviene quando la celebre Lori del Santo la scende per un luolo nella webserie, The Lady. Un'esperienza che le porta fortuna, lanciandola per successivi progetti, dal 2014 inizia a posare per diversi servizi fotografici, compresi alcuni calendari, diventa una delle vallette di Domenica Inn, appare nello show di Canale 5, Ciao Darwin. Successivamente la vediamo nei salotti televisivi di Canale 5, targati Barbara D'Urso. Sara Altobello, l'Isola dei Famosi e il GF VIP 7 nel 2019 Sara Altobello partecipa da concorrente alla quattordicesima edizione dei, l'Isola dei Famosi, ottenendo un ottimo quarto posto finale. Il 3 novembre del 2022 la Altobello entra nella casa del, grande fratello VIP 7, fa parte della nuova infornata di concorrenti, che comprende anche Mikolin Corvaia, Oriana Marzoli, Luca Onestini, Luciano Punzo ed Edoardo Tavassi. Sara Altobello è stata lanciata nello show come, la sosia di Melania Trump, per la somiglianza con la moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. Vita privata, compagno, Instagram a differenza di altre influencer e showgirl presenti nella casa del GF VIP, la vita privata di Sara Altobello è rimasta top secret. L'unico pettegolezzo emerso tempo fa riguarda il suo manager Tony Toscano. Il Gossip parlava di una coppia legata anche sentimentalmente, ma la donna ha poi categoricamente smentito aggiungendo, non è mai stato ricambiato da me, è il mio manager e se ne farà una ragione. Sara Altobello ha un profilo ufficiale di Instagram dove condivide molti scatti che la ritraggono. Attualmente è seguita da oltre 332.000 follower.